Il senatore del PD Luciano D'Alfonso, nella sua officina di Pescara, tracciò un resoconto della sua attività dell'anno appena trascorso. 365 giorni del presidente della Commissione Finanza e Tesoro, che vuole condividere con la stampa. Sono le linee programmatiche relative alla prosecuzione, dice, della sua operosità e il resoconto di quanto conseguito finora in ottemperanza al mandato e alla sua corretta realizzazione fattiva. Ho misurato 1092 ore di ascolto della cittadinanza, mille iniziative istituzionali a favore di enti locali, imprenditori e cittadini addolorati in condizione di difficoltà. Ho messo in campo qualcosa come 37 interrogazioni a risposta scritta e 35, mi pare, a risposta orale. Ho messo in campo 5 iniziative di disegni di legge, delle quali iniziative 4 sono arrivate in porto, votate integralmente da maggioranza e opposizione. Pensate alla norma riguardante il sottosuolo, alla norma riguardante i documenti contabili e anche al lavoro che ho messo in campo per quanto riguarda l'articolo 1, i commi richiamati 534, 35, 536 e 542 per la vita progettuale degli enti locali. Così come il lavoro fatto riguardante, per esempio, la linearità del lavoro nella fase del procedimento penale e nella fase anche processuale, l'obbligo della videoregistrazione. Quando si sentono a sit, a sommare informazione, le persone informate sui fatti, finalmente la nostra iniziativa è calata nella legge delega di riforma del processo penale e fa obbligo di conservare memoria remota. E dirlo oggi, in un giorno importante nel quale la Procura di Pescara ha dimostrato capacità di giudizio, capacità di autonomia e capacità di automedicarsi, perché davanti alla condotta scorretta di un contrattualizzato dello Stato che rivela il segreto istruttorio, la Procura procede velocemente e rinvia giudizio. Questa è la giustizia che mi piace. Critico sulla legge Omnibus della Regione Abruzzo. Beh sì, anche perché quelle risorse si potevano indirizzare diversamente, magari chiedendo anche i pareri agli uffici interni, sapendo che molti enti locali saranno circondate, le realtà locali, dalle risorse della legge di bilancio del PNRR. Quello che serve è fare i progetti, non circondare, diciamo così, con monetine che devono soltanto stabilire amicalità. Poi D'Alfonso si è complimentato col Comune di Pescara per i fondi di Colle Caprino. Per il porto invece, dice, sono arrivati quando ero io Presidente della Regione. Su Colle Caprino hanno seguito una giusta intuizione che aiuterà la città di Pescara a fare la città metropolitana. Ma non devono fare abuso di assunzione di merito quando parlano delle risorse riguardanti il porto, delle risorse riguardanti l'assatrezzato, le vasche di prima pioggia o il depuratore. Sono tutte risorse lasciate in eredità da me e non ci devono provare neanche l'assessoruccio. Quello che ha cambiato 11 partiti non può assolutamente provare ad intestarsi questi meriti. Però più enti locali, a cominciare anche da...